E vi faccio un esempio, un carissimo amico mio, lo stavo dicendo a Riego venendo in macchina, che abita a 200 metri da casa mia, c'è una casa bellissima con un giardino a due piani, c'è una manzata che voleva ripulire per la figlia, che si sposa a 25 anni, l'altro giorno mi ha chiamato e dice ma a me che è successo sta cosa? Che è successo? Sono andato in banca, mi serviva 50.000 euro per ripulire l'appartamento, si dice non ci sono problemi, che garanzia c'hai? Eh io ho una casa a tre piani, il giardino, il garage, ah ok non ci sono problemi, ma dove c'hai la casa? All'agraria, ma mi dispiace, mi dispiace proprio, cioè non esiste, dice la casa tua per noi non vale niente, non vale niente perché nessuno comprerà la casa nel primo cerchio, nel secondo cerchio è Porto Nascoli, le svalutazioni sono al 50%, dicendo,